La mia solidarietà ai sindaci del territorio per questa ennesima intimidazione che subiscono da una società privata che è venuta nel nostro territorio senza cercare nessuna concertazione qualche anno fa e ha deciso, invistiandone dei messaggi che arrivavano al territorio, di un governo del problema di rifiuti col coinvolgimento anche e soprattutto dei privati del territorio che avevano disponibilità a contribuire a creare un sistema virtuoso con le amministrazioni locali e oggi ancora una volta assistiamo a questa ennesima provocazione di due intimidazioni che arrivano all'ambiente. Io la vedo diversamente la questione, è tutta collegata con l'incontro di stamattina, col provvedimento assurdo dell'altro giorno emesso dall'assessorato all'ambiente e con quello che sta avvenendo nel territorio con alcuni sindaci che si schierano a favore dei privati rispetto ad altri che continuano a difendere il territorio. Purtroppo non si riesce a costruire l'unità ed è questo il problema di fondo. Nessuno è contro l'Abbieco, ha dimostrato in questi anni di essere contro l'Abbieco noi contestiamo la totale illegittimità di un investimento che l'Abbieco ha fatto nel Comune di Scalacet questo non è che lo dite voi sindaci, questo è scritto nelle carte e anche nel provvedimento ultimo emesso dall'assessorato all'ambiente perché se no ci prendiamo in giro e queste cose io credo dobbiamo avere il coraggio di dirle pubblicamente perché quando ancora oggi si scrive nei verbali di sopralluogo dell'Arpacast, della provincia che le prescrizioni rilasciate in zede di altri non sono rispettabili. Quando si conferma nel provvedimento che il biologico in quell'area c'è e la regione se ne impisca e se ne frega e tutto il resto, allora non è che si può dire che il problema rimane la strada magari, è la strada che viene incroppata abusivamente dalla discarica esiste o non esiste? L'asta fluviale dentro la discarica c'è o non c'è? O ce le inventiamo noi sindaci queste cose? o sono abusi commessi dalla piega? Il problema rimane l'accesso o tutto il resto? Allora io credo, io credo che domani, oggi non poteva andare diversamente, tu hai svolto egregiamente il tuo ruolo stamattina in perpetua, domani le stesse cose vanno ripetute a un commissario che non è mai stato a Stalageli, che parla di riaprire un qualcosa che non è stato mai aperto e che non sa che cosa c'è in quel sito. Allora in maniera chiara si espone e si dice com'è la situazione reale, non quella che gli è stata rappresentata da un privato o da un assessore che ha ascoltato e si è fatto portavoce solo dell'interesse privato e non di quello pubblico in questa vicenda? Perché se noi ci prendiamo in giro, sinceramente, domani io credo che queste cose vanno rappresentate. Io sulla questione dell'ordinanza, la vedo diversamente, di questa discarica privata della piega, non c'è mai saputo, io non vorrei che il sindaco domani autorizzasse l'apertura di una discarica privata a Rossano, che magari la piega ha costruito come a Stalageli, forse con tutte le organizzazioni e pareti e si va a conferire lì dentro, la prendo con le pinze, però non si è mai sentito parlare di una discarica privata che la piega ha realizzata a Rossano e nel commissario, che come ha emesso provvedimento per Scalageli, avrebbe a questo punto dovuto emettere provvedimento per la stessa società di conferimento a Rossano, perché se vediamo a conoscenza che c'è una discarica privata, perché Scalageli viene trattata diversamente rispetto a una proprietà della stessa società, lì si deve andare a scaricare per forza e lì non si deve sapere niente e nessuno che esiste una discarica, noi vorremmo capirci anche in questo domani, bisogna che facciamo, quindi anche questo, capire del perché è un diverso trattamento, capiamo che in questi anni Rossano si è sacrificata per tutta la Calabria, per questo territorio, ha ospitato la propria discarica a tutti i rifiuti che proveniva, in particolare da questo territorio ma da tutte le altre parti della nostra regione e quindi forse questa può essere una scelta, però riteniamo che la stessa società che intimidisce quotidianamente ormai sindaci che difendono il proprio territorio e rappresentanti istituzionali che difendono il proprio territorio, su Scalageli spinga verso l'apertura e il conferimento di tutto e di tutti, poi ha un'altra discarica, come vi lo sa, non si è mai parlato, mai parlato dell'esistenza di questa scala della quale veniamo a conoscenza oggi, perché chi ha letto quella cosa ha subito pensato all'impianto di Fugito e non è l'impianto di Fugito. Ora, anche questo è un aspetto poco chiaro che domani il commissario, io ritengo non ci chiarirà che questo ancora una volta dimostrerà quello che è, però sicuramente noi dovremmo avere la capacità di chiedere spiegazioni, di capire il perché ancora una volta si continua ad avere atteggiamenti strani rispetto al problema. C'è la necessità di procedere ad una conferenza stampa, come abbiamo detto l'altra sera, e di informare l'agenzia che domani passerà il messaggio che ancora una volta noi ci opponiamo ad andare a ricevere i rifiuti nel nostro territorio, perché questo è quello che si può far passare dall'Apiego, dal commissario e dall'assessore dell'ambiente, che noi non vogliamo i rifiuti sotto il nostro naso e li vogliamo andare a portare a portare. E non è così, non è così, va detto il perché non si può aprire quella discarica, va detto nel mezzo alla gente che quello che dice ancora una volta l'Apiego non è realtà perché quella discarica non ha tutte le autorizzazioni e non ha nessun collaudo e nessun procedimento autorizzativo, se non l'ultimo che per me, ma credo per tutti quanti noi, tutto è tranne con procedere, è che c'è stato in un procedimento di revoca, di sospensione dell'autorizzazione reale nei mesi passati, che oggi considerata la situazione di emergenza creata ad arte, stranamente viene revocato dall'ultima nota recepita dall'assessore dell'ambiente nel quale si dice l'ultima perché ha avuto un po' di legge, ma è condizionata alla strada e alle cose, però sulla questione del biologico un funzionario pubblico può scrivere che una relazione fotografica cangella in un'aria la produzione biologica? Soltanto perché una parte interessata scrive con una fotografia e fa vedere che non ci sono colture intorno alla discarica, cioè siamo alla follia, veramente alla follia e io oggi mi sarei aspettato che sua eccellenza prendere su questo, una posizione o quantomeno si sia impegnato a vederci un po' o quantomeno si è impegnato come rappresentante dello Stato in questa provincia, come si può dire con una fotografia in un'area dove ci sono certificazioni importanti di consorsi, della regione, c'è gente che ci prende i contributi per il biologico a 300 metri, 500 metri, poi per una fotografia basta accangellare tutto il resto, fotografia di parte della quale non si ha conoscenza del Comune di Scalagelli, che è questo l'assurdo, perché c'è una corsia preferenziale in questa vicenda rispetto alla gestione della vicenda e per il privato e il pubblico che dovrebbe essere colui il quale tutela gli interessi dei cittadini, del territorio e di tutti quanti noi non viene minimamente interessato da una regione che preferisce aver dimostrato, non ci dimentichiamo mai quello che è accaduto l'11 di agosto di qualche anno fa quando l'assessore e il direttore generale ci scrivono, ci dettano quello che dovevamo scrivere per avere la revoca in ovo tutela del procedimento autorizzativo dell'AE e nella risposta alla lettera che ci hanno preso a male parole. Questo è quello che è accaduto e noi conosciamo nel merito, perché l'abbiamo seguita dall'inizio la vicenda, e allora oggi ci rendiamo conto di quello che c'è dietro e che dobbiamo avere il coraggio, e lo abbiamo tutti il coraggio perché il limite di sopportazione è stato superato da tempo, di dire chiaramente in una conferenza stampa, sui giornali, pubblicamente, manifestazioni, quello che c'è dietro, perché non è che non vogliamo rifiuti sotto il naso, assolutamente, siamo aperti a discuterlo il futuro della gestione del problema dei rifiuti in questo territorio, a discuterlo con interlocutori seri, il commissario ha dimostrato di non essere, la regione ha dimostrato di non essere, però vorremmo capire le nostre idee, quello che vogliamo fare, a chi andare ad esporre, perché abbiamo trovato muri di gomma, orecchie sorde, e gente che pensava più all'interesse privato che alla risoluzione del problema pubblico, e questo non lo possiamo più collegare, quindi domani, se c'è la necessità io sono disponibile a partecipare, dopo domani vediamo se riusciamo a tenere questa conferenza stampa e vediamo se riusciamo a sintetizzare in maniera chiara ai cittadini del territorio che vivono il problema sulla pelle, che poi il rifiuto fino a un certo punto gli interessa la discarica, la differenziata a quanto altro, ma gli interessa avere il tassonello pulito, il libro dove andare a conferire il sacchetto, è un problema che va affrontato, va risolto, però c'è una fase sicuramente immediata di difesa dell'attività del nostro territorio che va portata avanti e va portata avanti in maniera decisa rispetto a tutte le scelte scellerate che si stanno compiendo sulle nostre peste.